Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie a tutti per questo invito che mi fa veramente molto piacere, grazie a Giovanna che è fantastica, fa delle cose bellissime a Giovanna, quindi grazie, grazie mille e grazie a un certo punto perché mi hai chiesto di parlare del periodo forse tra i più complessi della storia dell'Italia repubblicana e quindi la cosa è abbastanza complicata, ci proviamo però. Allora, venerdì 1 marzo 1968, a Roma c'è il sole e un corteo di circa 4.000 studenti partito da Piazza di Spagna ha percorso già Viale delle Belle Arti e ora in Boccavia Gramsci per fermarsi di fronte all'entrata della Facoltà di Architettura. Gli studenti stanno protestando contro lo sgombero della Facoltà di Architettura stessa voluta dal Rettore. In cima Valle Giulia però, disposti su più file, ci sono gli uomini della Celere, Manganello in mano e del metto allacciato. Dopo qualche istante di silenzio partono le invettive e poi il classico lancio delle uova. La polizia si muove e carica. La battaglia inizia alle 11 e dura due ore. 148 feriti tra le forze dell'ordine, 47 feriti tra gli studenti rossi e neri, 10 arresti e 228 fermi, 8 automezzi della polizia incendiati e 5 le pistole sottratte agli agenti di polizia. Era iniziato il 68, primo marzo appunto 1968, o però forse in realtà era finito il 68. Oppure ancora, il 68 era iniziato mesi prima, ma fino a quel momento in pochi se ne erano accorti, perché le notizie delle occupazioni delle università di Milano, Trento, Torino, eccetera, erano rimaste confinate nelle cronache locali. E quindi c'era voluta la violenza, perché il 68 divenisse un evento mediatico su tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali. Ora, cosa stava succedendo? Intanto, come è stato scritto, con la battaglia di Valle Giulia, marzo 68, comincia la ideologizzazione di una protesta nata come movimento libertario e finita ingabbiata nelle ideologie ottocentesche di marxismo e leninismo. Ora, proprio quest'anno è il cinquantesimo anniversario del 68 e, come ho accennato, è un momento ancora oggi assai divisivo della società italiana. Tra chi lo esalta come una stagione almeno potenziale di straordinaria potenzialità libertaria, culturale e creativa, e altri che, in modo assai semplicistico, però insomma non sono pochi, lo demoliscono il 68 come incubatore del terrorismo. Allora proviamo a vedere cosa sia successo. E mai come nel 68, per provare a capire questo momento storico, bisogna volgere lo sguardo fuori dall'Italia, perché mai come nel 68 appunto la dimensione nazionale e quella internazionale si andarono sovrapponendosi. L'anno prima in Grecia, nel 67, la previsione della vittoria alle elezioni delle sinistre aveva portato al colpo di Stato, un colpo di Stato militare e alla famosa dittatura dei colonnelli. In Medio Oriente si era combattuta, sempre pochi mesi prima, l'ennesima guerra, in questo caso quella dei Sei Giorni. In Bolivia, all'inizio di ottobre, era stato catturato e ucciso Ernesto Guevara, ormai un mito. E poi nel gennaio del 68, a Praga, Alexander Dubcek aveva iniziato una nuova stagione riformista teorizzando il socialismo dal volto umano, ma la primavera di Praga sarebbe stata schiacciata già nell'agosto dagli carri armati dell'Unione Sovietica. In Vietnam, andiamo dall'altra parte, l'offensiva del Tet di quei giorni sconvolgeva gli americani, proprio mentre pochi mesi dopo, in aprile, veniva ucciso Martin Luther King. Le comunità nere di 110 città americane esplodono, i ghetti sono in fiamme, 39 morti, 2.500 feriti, 5.000 arresti. E non basta perché in giugno, pochi mesi dopo, viene assassinato anche Robert Kennedy, il fratello del mitico JFK, del mitico Jack, destinato molto probabilmente a vincere le elezioni del novembre. E poi ancora le Olimpiadi di Città del Messico e la foto mitica di Tommy Smith e John Carlos, rispettivamente primo e terzo nei 200 metri piani, che sul podio chinano la testa, alzano il pugno con un guanto nero, il simbolo delle Black Panthers, insomma, delle rivolte negli Stati Uniti. Insomma, in soldoni, l'invasione di Praga scopre il velo di ipocrisia dell'Unione Sovietica imperialista, mentre il Vietnam demolisce il mito degli Stati Uniti. E cioè, anche in Italia, i modelli di riferimento perdono terreno e mostrano soprattutto il volto contraddittorio del mondo bipolare. Ecco, come emerge da questa breve cronologia, anche in Italia questi eventi non potevano passare inosservati. Perché? Perché anche in Italia le due culture dominanti dell'epoca, della società italiana, stavano vivendo momenti di grande crisi. Sia quella marxista, incarnata dal Partito Comunista, accusato di essere in uno stato di sudditanza nei confronti dell'Unione Sovietica, sia però anche la cultura cattolica. Il breve magistero di Giovanni XXIII, 58-63, aveva innestato nuovi fermenti, il mondo cattolico guardava a una nuova giustizia sociale e non a caso, non a caso, molto probabilmente il libro più letto del 1968 è lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani. E in Italia, inoltre, il 68 si lega alla crisi politica delle mancate riforme della stagione del centro-sinistra, iniziato un decennio prima, all'incapacità cioè dei partiti di continuare ad essere il tramite tra i cittadini e le istituzioni, come nei vent'anni precedenti. In questo quadro si inserisce quindi il 68 come momento storico e poiché i protagonisti sono i giovani, è una questione generazionale e in particolare gli studenti, ma non solo, due numeri sono obbligato a dirveli. Nel 1951 gli studenti delle superiori erano circa il 10% del totale di tutti gli studenti di quella fascia di età. Nel 67 sono il 40%. Gli universitari erano 230 mila nel 58 e dieci anni dopo 550 mila. Notate, la scolarizzazione di massa esplode proprio in un periodo di viva circolazione delle idee a livello internazionale garantita dai nuovi strumenti di comunicazione di massa e quindi esplode anche l'università perché l'università non poteva gestire quei numeri. Alla sola sapienza vi erano 60 mila studenti e 300 professori, una situazione insostenibile. Non solo, anche nella scuola, non solo l'università, anche nella scuola vi erano problemi importanti. Alberto Ronchei sulla stampa del 18 febbraio del 68 ne aveva elencati alcuni. L'insegnamento era dispotico, elusivo o muto sui temi che interessavano gli studenti. Ronchei sottolineava la rottura completa del linguaggio tra le due generazioni, mentre a fare da detonatore, appunto ribadisco, vi erano le comunicazioni di massa che rendevano però eventi lontani ad esso così vicini. E concludeva Ronchei, l'ultima generazione non vede un disegno del tipo di società verso cui vogliamo andare. Non per caso quindi Paul Ginsburg, per citarne uno solo, ha scritto che l'allargamento dell'accesso all'università significava una vera bomba orologeria, così scrive Ginsburg, destinata ben presto a esplodere, anche perché la scuola aveva superato la capacità di assorbimento del mercato del lavoro e quindi si era costituita, si era costruita, si era diffuso un fenomeno pericolosissimo e cioè quello della disoccupazione intellettuale. Tuttavia non erano solo i problemi della scuola a stimolare il malessere oggettivo degli studenti, ma una critica più generale all'intera società italiana e cioè ora i valori della vecchia generazione, quella dei padri, quella che peraltro aveva anche ricostruito l'Italia e portato l'Italia a un benessere mai visto nella storia del nostro paese, ma quella vecchia generazione, quella dei padri, i valori di quella generazione e cioè il mito del consumismo, la sacralizzazione della famiglia, l'esaltazione dell'individualismo, beh questi valori venivano ora fortemente attaccati, il tutto su nuove basi o matrici ideologiche che stavano alla base appunto della contestazione. I giovani si dice, io sono nato nel 68, i giovani si dice più che leggere il capitale di Marx leggevano i manoscritti economici e filosofici, cioè gli scritti giovanili di Marx, oppure leggevano Giorgi Lukacs, storia e coscienza di classe, notate le date, scritto nel 23 ma tradotto nel 67, oppure naturalmente Herbert Marcuse, Eros e civiltà, scritto nel 55 ma tradotto nel 64 in italiano, o l'uomo a una dimensione del 56 ma tradotto in Italia e portato in Italia nel 67. Insomma tutti volumi per così dire che stigmatizzavano pesantemente la società opulenta, chiamiamola così. E tra i molti tra l'altro è necessario anche ricordare Franz Fonon e i suoi dannati della terra, libro del 61 ma tradotto nel 66, che individuava nel proletariato dei paesi sottosviluppati la vera forza rivoluzionaria del futuro. E poi naturalmente il libretto rosso di Mao Zedong, la Cina, la nuova Cina che soppianta l'Unione Sovietica come vera patria dell'applicazione del comunismo o del socialismo, che dir si voglia. E poi ancora l'esperienza di Cuba, la rivoluzione si può fare, Fidel e c'è Guevara, e magari la rivoluzione si può anche esportare, anche se appunto Guevara era stato catturato. Insomma per farla breve, perché se no vado avanti una settimana, si potrebbe per dare un senso alla cosa citare il famoso Port Huron Statement che è di qualche anno prima, quando cioè l'Associazione degli Studenti per la Società più Democratica si era trovato a Port Huron appunto e aveva scritto questo manifesto. E il manifesto di questi ragazzi non a caso si intitolava Programma per una Generazione e si diceva, ve lo cito, la nostra generazione, cresciuta in condizione di media agiatezza ed educata all'università, si ritrova in un mondo molto diverso da quello in cui sperava. In pratica una dichiarazione di un esplicito disagio morale esistenziale che colpiva una vasta parte della nuova generazione. Il 68 quindi, anche in Italia, iniziò prima del 68. Se vogliamo dare una data, ma sarebbe inutile, forse il 1966 quando all'Università di Roma scontri tra studenti avevano portato alla morte dello studente di sinistra Paolo Rossi. Ma fu nell'autunno del 67, come è arcinoto, con l'esplosione dell'Università di Trento, che il movimento fece un salto di qualità. E una dopo l'altra, dall'autunno del 67, si incendiarono praticamente tutte le università italiane, con risposte dei rettori diverse, ma in genere di rottura, cioè di chiusura dell'università. Il 68 iniziò quindi con gli Atenei in fiamme, però, e questo è un altro punto secondo me fondamentale, si trattava di una, chiamiamola, sincronicità casuale. Cioè non c'era un vero piano apertamente studiato, stabilito, su cosa fare in futuro. E in questo quadro quindi accade Valle Giulia e da quel momento, anche a causa della repressione del rettore, la protesta rinvigorì e le aule si riempirono di studenti. Ma non tutto era così lineare, se proprio in quei giorni Pierpaolo Pasolini pubblicava la sua famosa poesia, in cui, che peraltro questa poesia è stata, a mio parere, sovente male interpretata, però diciamo, apparentemente prendeva le difese dei poliziotti, veri figli dei poveri, contro gli studenti, figli dei borghesi. Ripeto, secondo me questa non è l'interpretazione di quella poesia, però ognuno la diamo buona, insomma. Comunque, il movimento raggiunse il suo apice nella primavera e poi iniziò a rifluire. Era inevitabile, non c'era una guida, ma era percorso il movimento da un irriverente anti-autoritarismo. Nessuna gerarchia o centro di potere poteva essere accettata. Gli stessi riferimenti culturali della contestazione, come ho già accennato, erano ispirati a un pacifismo libertario e anti-gerarchico. I genitori non erano più i modelli da seguire, anzi, la famiglia era considerata come una istituzione che alienava e opprimeva gli individui che ne facevano parte. E allora i nuovi modelli sono i ribelli, coloro che avevano trasgredito i preconcetti e si creavano anche semplicemente esteticamente nuovi stili e nuovi modelli. Basta con le giacche, i capelli corti, le cravate, i vestiti scuri e le scarpe nere e avanti con l'eschimo, la barba lunga, i fazzoletti rossi intorno al collo e i jeans. Le stesse fanciulle abbandonavano il trucco, i vestiti eleganti, i tacchi per indossare lunghi maglioni, jeans e stivali. Ora, certo, era una questione generazionale perché di questo si tratta quando si parla del 68. Senza padri né maestri o, come diceva Jerry Rubin, il fondatore del movimento degli hippies, no, scusate, degli hippies, sono degli anni 80, cosa devo dire, del movimento degli hippie, come diceva Jerry Rubin, non fidatevi mai di nessuno che abbia più di 34 anni e cioè la rottura tra la generazione nata prima della seconda guerra mondiale e quella nata dopo la seconda guerra mondiale. Insomma, una rottura inimmaginabile solo a pochi anni prima. Però in realtà questo 68 coinvolge solo appunto una parte della società, come ben dimostrano i dati, per esempio, della, chiamiamola dell'auditel di una volta, che ci raccontano che i grandi programmi per famiglie della televisione erano straseguiti. Canzonissima del 68, condotta da Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli, ebbe 21 milioni di spettatori in media e la serata finale del Festival di Sanremo, certo non rivoluzionario, vinta da Sergio Indrigo con Una canzone per te, fu seguita da oltre 20 milioni di persone. In realtà però questa parte di ragazzi seguiva altro, più in linea con l'idea del pacifismo a oltranza e alcuni di loro si spingevano addirittura a professare un ritorno alla società pre-industriale e quindi ascoltavano naturalmente il folk di Bob Dylan. Sono gli anni di Blowing in the Wind, adesso io parlo di musica con l'amico e collega Corrado Greco, scusami, chiedo perdono, quindi Blowing in the Wind o The Ballad of a Thin Man, oppure ancora sono gli anni di Jumping Jack Flash degli Stones, di Joan Bites o naturalmente dei Beatles. La loro The Fool on the Hill, io credo, seppe esprimere lo spirito di protesta più di molte canzoni impegnate e certamente meno trascinanti. E certo in Italia anche molti erano impegnati, cito solo Paolo Pietrangeli Contessa o anche Ivan Della Mea o Caramoglie, però per capire quanto stesse cambiando bisogna guardare i grandi numeri. I grandi numeri ci raccontano di un evento che ha dell'incredibile e cioè Gianni Morandi. Gianni Morandi nel 67 era arcinoto, era il fidanzatino d'Italia e come tutti sanno aveva ottenuto un successo clamoroso con canzoni diciamo non particolarmente impegnate tipo andavo a 100 all'ora per vedere la bimba mia, oppure fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, oppure la bellissima in ginocchio da te. Beh nel 1967 Gianni Morandi è primo in classifica per diverse settimane con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, cioè una canzone che parla del Vietnam, di pacifismo, di questo ragazzo che va a morire in Vietnam e io credo che se una canzone così in quel periodo, cioè quello di abbronzatissima e la rotonda sul mare eccetera, diventa prima in classifica, significa che anche nelle masse meno impegnate ormai si discute di guerra e di pace, cioè ormai si discute dei grandi temi internazionali e questi temi hanno conquistato tutti. Ora, a parte questa parentesi, ripeto l'amico Corrado mi scuserà, era evidente però tornando sugli aspetti un po' più così, chiamiamoli seri, e come ha sottolineato tra gli altri anche Vittorio Foa, che all'interno del movimento vi fosse una fortissima carica eversiva, però fino a Valle Giulia il movimento fu pacifico, che non significa pacifista, significa pacifico e certamente la rottura si ebbe quando gli studenti iniziarono a picchettare le fabbriche e il movimento perse così la sua aurea libertaria. Da Valle Giulia in poi, cioè gli studenti provarono ad allearsi con gli operai e iniziarono a unirsi ai lavoratori nei picchettaggi davanti alle industrie e da quel momento il movimento spontaneo e libertario inizia invece a caratterizzarsi come un embrione, perlomeno, di partito rivoluzionario, esattamente come avevo accennato qualche minuto fa. Si può discutere naturalmente questa tesi. Comunque, sto già praticamente andando a chiudere, non voglio... Il movimento raggiunse il suo apice nella primavera, poi la coralità cedette in pochi mesi anche alla violenza e alla radicalizzazione ideologica. Era inevitabile, lo ripeto, non c'era una guida. Il movimento era percorso inizialmente da un irriverente antiautoritarismo e di conseguenza nessuna gerarchia poteva essere accettata. Poi però, pensate che solo nel 1969, a causa degli scioperi e della diminuzione dei ritmi di lavoro, le ore di lavoro perdute in Italia furono oltre 300.000, poi però arriva il 1969. L'autunno caldo, appunto come ho accennato, è soprattutto il 12 dicembre, quando a Piazza Fontana si inaugura la strategia della tensione. Il Paese inizia a precipitare nel momento più buio della sua storia, mentre trame oscure puntavano a piegare le istituzioni e la democrazia verso destra, a imprimere una svolta autoritaria che prevedesse la repressione dei diritti civili e costituzionali, o perlomeno, datemi buono alla frase fatta, a impedire che la sinistra alzasse troppo la cresta. Ma questa però è un'altra storia, perché il decennio successivo è caratterizzato da stragi, morti, terrorismo nero e terrorismo rosso. Cosa fu dunque il 68? Beh, innanzitutto io credo che si possa sostenere che il 68 fu il primo esplicito anticipo della globalizzazione. La circolazione cioè delle idee su scala mondiale, la circolazione a livello mondiale e vista delle esplosioni di rivolta, il rimbalzare di queste esplosioni da un continente all'altro, indifferenti alle distanze e ai confini, persino indifferenti ai diversi contesti politici, ideologici e sociali, pensate al 68 in Giappone, e la relativa omogeneità delle forme di espressione usate, la relativa omogeneità dei linguaggi usati, le figure dei professionisti, cioè i giovani, danno il senso dell'inizio di una sorta di globalizzazione. E certamente in molti di questi, con grande onestà, vi era una logica di partecipazione sociale globale, perché ora, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, ci si sentiva cittadini del mondo e ci si sentiva interpellati e coinvolti nelle miserie e nelle tragedie di popoli che potevano apparire lontani, assai lontani. Pensate al Vietnam, ma pensate alla condizione dei neri negli Stati Uniti. In secondo luogo, il 68 non è un evento, ma un processo di accumulazione di diverse crisi che erano già latenti. La crisi della società americana, appunto, una sorta di guerra civile, come citano tutti i testi di storia, ma anche la crisi della prima generazione, cresciuta all'ombra dell'arma atomica, come scrisse Anna Arendt. Quindi in preda a nuove passioni. E poi ancora la crisi di una certa idea del comunismo, ben manifestato da Praga. In terzo luogo, il 68 certamente non fu una rivoluzione politica, anzi non produsse nessuno sconvolgimento politico. Tre esempi molto semplici. De Gaulle stravince le elezioni. Negli Stati Uniti Richard Nixon, e dico Richard Nixon, stravinse le elezioni e gli stessi, chiamiamoli rivoluzionari, che si presentarono alle elezioni con una serie di partiti, presero realmente pochi voti. Quindi inoltre non fu neanche una rivoluzione sociale nel senso classico del termine, cioè di rapprovesciamento del rapporto di potere fare fra le classi. E allora cosa fu questo 68? Fu, io credo, una sorta di tentativo di rivoluzione culturale, una spallata culturale, uno spostamento nella vita quotidiana, negli stili di vita, o come è stato scritto, una breccia culturale, una rivoluzione linguistica e comportamentale, che quindi durò poco, e cioè durò quanto può durare uno stato di eccezione. Il 68 fu quindi un tentativo, per alcuni perlomeno, un tentativo di rivolta etica, volta a rovesciare i valori dominanti dell'epoca, che trovò ispirazione nella congiuntura internazionale di quel periodo. Però certo non è così facile, perché, tanto per citarvi un paio di casi, Marcello Veneziani ha scritto del 68 definendolo una nube tossica, parricida, infantile, estremista e arrogante. Giampaolo Pansa, noto per le sue posizioni ultimamente sulla storia, insomma, lo ha semplicemente liquidato come un bluff. Invece Alberto De Bernardi, autore di un bellissimo volume su 68, sottolinea perlomeno che non avremmo avuto le leggi sul divorzio e sull'aborto nel nuovo diritto di famiglia senza 68. Posizioni, appunto, difficilmente conciliabili. E poi, naturalmente, è chiaro che il rapporto con la violenza riguardo a 68 è rovente, perché senza dubbio alcuni di quei ragazzi scelsero la lotta armata, il terrorismo, accettarono, cioè, di uccidere, pensando nella loro miseria intellettuale, culturale e morale di essere gli eredi dei partigiani, che l'Italia l'avevano costruita combattendo contro il nazifascismo e non combattendo contro un paese democratico guidato da una Costituzione. Insomma, vado a chiudere. Il 68 fu una stagione certamente libertaria che portò o perlomeno spinse al cambiamento dei costumi, dei rapporti tra le persone, pensate al ruolo della donna. E soprattutto, questa sì, la spallata all'Italia arretrata fu imponente, perché da quei fermenti, io credo si può interpretare, non pretendo di essere depositario della verità, da quei fermenti venne però l'impulso a una modernizzazione dell'Italia civile, a una concezione dei diritti civili più ampia, a una maggiore sensibilità sociale. Però, per non essere troppo ageografici, bisognerebbe anche spendere alcune parole sul fatto che molti dei ventenni del 68 guidarono poi il paese negli anni 80, cioè nella stagione più edonistica ed egoistica della storia. E molti di loro si sedettero ben comodi su quei posti di potere che prima tanto disprezzavano. Però questa è un'altra storia di cui magari parleremo un'altra volta. E io credo che invece la lezione del 68, se proprio bisogna andare a prenderla, così non faccio a geografia gratuita, credo possa essere definita da un insospettabile. Però, visto che è anche l'anniversario della sua morte, mi fa molto piacere citarlo. E ciò è Aldo Moro. Aldo Moro, il 21 novembre del 1968, al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, disse, rendendosi conto della crisi della rappresentanza, disse, siamo davvero una svolta della storia e sappiamo che le cose sono irreversibilmente cambiate e non saranno ormai mai più come prima. Grazie.